ci ed amiche di chiare tondo tv abbiamo in linea e maurizio maurizio polverini niente poco di meno che da parigi ciao mauro ciao leo buongiorno non ho un po' lamentare ecco che mi hai trovato però insomma va bene dai ho capito l'ho fatto ma in cinque di crisi con le stesse economiche vabbè a scaricare di sera ma francesi che hanno festeggiato perché ha perso l'inghilterra così ritornando le quarti di islanda pensano pensano più abbordabile senti una una domanda tu che eri lì ma il nostro centrocampista paralizzato no diciamo che ti fanno studiate veramente stanno Tiago Motta che oltretutto però per fortuna notte sarà munita quindi non potrà giocare quindi diciamo no a parte Tiago Motta però Conte ha giocare ha indovinato tutto 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 e diciamo le altre sostituzioni con la sostituzione di centrocampi di Insigne e Gliadmiano sono i due giocatori che poi hanno costruito 2 a 0 però la squadra si meritava già il vantaggio nel primo tempo e poi con Eder che si è mangiato un go clamoroso ti devo dare uno scoop io pensa che la il paese di talla ha dato la cittadinanza onoraria a Giaccherini Giaccherini ha giocato una partita che è già di talla e anche De Sciglio è da dire che De Sciglio sembrava il fratello di quello che è giocato nel Milan e battuto in 0 è veramente bellissimo ma soprattutto il centrocampo con Giaccherini con Florezzi con De Rossi anche De Rossi è arrivato bene senti ma tu hai festeggiato ieri sera sì andavo festeggiato ma con tua moglie cosa hai fatto dopo? ho festeggiato con mia moglie veramente una roba pesa sì una volta l'anno tocca bene allora tu ti sposterai vai a Bordeaux no? giovedì ma da Bordeaux ma dal Beco lo scelgo io pago io perché no no ascolta poi quattro di finale bisogna essere scontato sì sì siamo contenti dobbiamo dire che io e te in tempi non sostetti avevamo detto che l'Italia non avrebbe fatto male perché ora saranno tutti sul cavo dei vicini tutti bravi no? bravi che nei giornali Conti è un fenomeno Conti di qua fino a 15 giorni fa era un pellegrino insomma diciamo in anteprima lo scoop perché venerdì mattina avremo in esclusiva Conte e Buffon al telefono con me? certo è chiaro un paio di giocatori in buro di scarsi due personaggi si chiama Giacomo Motta così si fa se compensa chiamo Giacomo Motta che lo metti la sera e mi aspetta che la vada gli dà il panettone così a posto Maurizio grazie buon lavoro buon lavoro ciao a tutti ciao ciao a tutti